Questo vuol dire Sir Shasana, King of Asana, re di tutti i tipi di Asana, re di tutti i tipi di Asana, re proprio fatti molto difficili, quello che ha la pressione di sangue molto alta e bassa, quello che ha problemi legati al proprio cuore, assolutamente non si fa, quello che ha problemi legati agli occhi, non si fa queste Asana come precauzioni. Ok, va bene, così, queste vanno facciate così, ok, un pochino, quello che ha la testa, dove metto la testa è un pochino morbido, ci vuole un pochino morbido, ok, piano piano, piano piano, piano piano, con la bilancia, con la bilancia, con la propria trattenimento, inspirando, trattenendo, bilanciando il proprio corpo, così si fa. Ok, va bene, 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 va bene Grazie a tutti.